Ciao a tutti ragazzi sono Yakidale e oggi siamo qui nel quarto episodio della serie di Geometry Dash Ho visto che lo scorso video vi è piaciuto abbastanza quindi ho deciso di farne un altro ancora E quindi direi che oggi dobbiamo andare a fare il livello dopo Jumper che è Time Machine Quindi ragazzi magari visto che potrebbe diventare un pochino noioso potete farmi i vostri livelli e poi io andrò a giocarci E quindi vediamo cosa succede intanto iniziamo il nostro grandissimo livello e vediamo se riusciamo a farlo facilmente o ci vorranno migliaia migliaia di ore Ok qui va sotto sopra no ragazzi questo se non ricordo male è abbastanza difficile Io odio sti cosi da 3 da saltare perché bisogna proprio farlo all'ultimo e si rischia un casino sempre Però dai 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 stiamo andando bene stiamo andando bene Tra l'altro ragazzi ho messo la telecamera che vede un po' da sotto a sopra quindi anche quando sono piegato per vedere lo schermo Così vedete un po' meglio la mia faccia quindi magari potrebbe essere più carino e ditemi se vi piace Ho messo anche tipo due fari che mi sparano così in teoria la luce dovrebbe essere migliore Intanto sono morto due volte completamente a caso e cerchiamo di finire sto maledetto livello Tentativo numero 12 ragazzi siamo già nella cacca perché ho fatto tipo qualcosa tipo il 20% E questo ragazzi non è un brutto segno no cioè non è un buon segno quindi è un brutto segno e sono morto a caso in sto livello di merda Mi prude la gamba grattiamoci ok sono un pro sono un pro Mi prude dappertutto Sarebbe molto più semplice per me finire questo grande livello Dai che qua non sono ancora mai arrivato Si vasco si vasco che porti fortuna Oddio ragazzi qua oddio è super Che brivido che pelo che pelo che pelo Si molto 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 bene ok non dobbiamo fare cavolate non dobbiamo fare cavolate si no Madonna santa che sfiga Che poi ragazzi sinceramente non so perché mi sono messo tipo rosa e verde però mi piacevano Non prendetemi per infemminato si molto bene molto bene adesso qui dovrebbe esserci una parte abbastanza easy se non sbaglio Si molto 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 bene ok non dobbiamo fare cavolate non dobbiamo fare cavolate Resta concentrato yaki resta resta concentrato si Oddio no 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 qua c'è una parte tipo impossibile si molto bene dai che ce la facciamo si Madonna si 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 un pro un pro ragazzi sono un pro sono un pro sono un pro Non ho saltato Che poi ragazzi alcuni di voi mi hanno scritto c'è vabbè pochi per fortuna che non sto giocando io però guardate sono io effettivamente che sto giocando Si che sono io guardate vedete che muoio a caso vedete che muoio a caso Zan 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 No ragazzi ma se così gioco veramente così bene allora sto sempre così Quando dico delle cose proprio me la gufo dico ragazzi si sono a buon punto Zan morto intanto sta laggando che è una meraviglia non so neanche perché non ce la faremo mai E poi c'è gente che fa tipo tutti questi livelli con anche le monete ma questi qui sono malati cioè malati potentemente Devo concentrarmi devo concentrarmi devo concentrarmi devo concentrarmi Ok donto schiantiamoci stiamo in piedi si molto bravo molto bravo yaki bravo yaki bravo yaki Molto bene molto molto nice Nooo di nuovo lì devo saltare ma 55 56 57 60 Stai zitto yaki e gioca stai zitto yaki e gioca sto zitto sto zitto no sto zitto no parlo dicendo che sto zitto sto zitto E la peppa sono morto Magari ragazzi visto che comunque Geometry Dash ha i giorni contati nel senso che comunque Tra poco arriveremo a livelli impossibili e non potrò fare più episodi perché non riuscirò più ad andare avanti Potete consigliarmi qualche alternativa quindi qualche giochino tipo simile o magari anche diverso Comunque io pensavo di rimanere nell'ambito dei giochi per smartphone e fatemi sapere Perché? No ma no ma scusate eh Sto andando in fibrillazione ragazzi sto andando in fibrillazione Sì? Ok? Stiamo calmi stiamo calmi Devi stare molto calmo Devi stare molto calmo Ok? Siamo sotto sopra non ci capisco più niente Sì? Dai calmi Calmi Ok? No! No! No avevo saltato Avevo... No 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 Avevo saltato No 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 è un casino ragazzi ho scoperto una cosa esilarante guardate mi faccio uccidere apposta tengo premuto e guardate zackete 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 bene adesso posso morire felice cos'è cos'è batteria scarica non ci credo ma perché perché doveva no ragazzi cioè no questa è sfiga non poteva apparire tipo quando è iniziato il livello no va bene adesso mettiamo a caricare il telefono ok perfetto quindi adesso non ci può fermare nessuno perché abbiamo il cavo attaccato e quindi possiamo giocare all'infinito che poi ragazzi i video di geometri dash sono un qualcosa tipo un'oretta di registrazione no poi io li edito li faccio diventare quei 9 10 minuti e quindi diciamo che comunque è un impegno e la cosa brutta è che tipo in quell'oretta succede sempre qualcosa che non deve succedere tipo la registrazione che non registra la telecamera che non registra e quindi poi ogni tanto sono ricostretto a fare il video e mi incavolo molto molto pesantemente al pelo ragazzi stavo per schiantarmi ma mi sono salvato perché io sono yakidale sono best propria eu di geometri dash no ma no ho saltato giuro giuro lo giuro devo farcela e possiamo farcela dai 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 ok ho capito praticamente lagga un pochino quindi dobbiamo saltare un attimo prima per non fare fail infatti così in teoria riesco a giocare anche meglio si ok perfetto perfetto ragazzi ho trovato il trucco per vincere la tensione è tanta la tensione si spezza con un rasoio si taglia con un filo di burro no cosa sto dicendo cosa sto dicendo si ragazzi si si dai che ce la facciamo ce la possiamo fare ce la cosa succede qua cosa succede si si yakid vai yakid cos'è cos'è sta roba nooo non ci posso credere ragazzi 150 tentativi ma è possibile dai che arriviamo a 200 se ci impegniamo arriviamo a 200 nooo porca no di nuovo qua non è possibile la madonna no ho saltato ho saltato ho saltato ho saltato ma perchè deve laggare non è 206 226 tentativi per gli akidale 227 preciso ok ragazzi sono tornato scusate ma mi si è distrutto tutto c'è batteria esaurita sulla telecamera memoria esaurita memoria esaurita sul telefono quindi ho dovuto fare una cosa strana ho perso un pezzo di registrazione tipo avrò perso 300 tentativi ma sono comunque inutili abbiamo un'ultima possibilità per finire il livello ce la possiamo fare visto che comunque sono andato molto 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 vicino però comunque ragazzi è stata durissima e non so se ce la faremo sarà impossibile sarà impossibile però comunque ce la possiamo fare calmo yakid calmo yakid non devo parlare ma parlo perchè chi se ne frega si ok eh no ragazzi stavo scherzando dai proviamo questo dai dai ce la posso fare che palle ma io dico sempre eh si questa è l'ultima possibilità però in realtà io lo voglio finire sto benedetto livello si 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 arriviamoci invit pret Papel si ragazzi ce l'ho fatta ce l'ho fatta in 415 tentativi in 9436 salti e in 2 ore 7 Quindi ragazzi per questo video è tutto Io mi sono spaccato per finire questo cavolo di livello Quindi quindi 1500 mi piace per il prossimo video di Geometry Dash Lo so che tanto ma ce la potete fare Ce la potete fare perché noi siamo grandi E quindi ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto Io vi ricordo di passare per la pagina Facebook link in descrizione E niente ragazzi noi ci vediamo nel prossimo video